I bambini le portano le cicogne ma le cicogne chi le porta? Ecco forse una risposta a questa mia domanda l'avrò domenica 9 giugno giornata appunto della cicogna ma noi abbiamo giocato d'anticipo e siamo a Monsumano Terme località Il Fossetto. Senta scusi ma lei che sta guardando? Sto guardando il nido delle cicogne. Sono uno dei sette nidi di cicogna toscana. La cicogna era scomparsa dalla nostra regione per molti secoli e dal 2005 ha iniziato a nidificare di nuovo in Toscana, qui a Monsumano Terme, a Fucecchio e in altre località vicine. Quindi su quel traliccio c'è un nido di cicogna scelto dalle cicogne o imposto tra virgolette dall'uomo? Sono sempre le cicogne che scelgono. Le cicogne scelgono un traliccio, iniziano a costruire il nido. Il nido è quello che vediamo qui davanti a noi. Magari alla fine della prima stagione di nidificazione, per sicurezza dato che si tratta di tralicci attivi in cui passa la corrente elettrica, chiediamo l'intervento di Enel che fa una messa in sicurezza. Voi siete già in grado di sapere quanti cicognini ci sono in questo momento nel nido? Sì, i cicognini sono quattro. Erano qualcuno di più, però con il maltempo i più piccoli purtroppo non ce l'hanno fatta. Siamo partiti da sei e arriviamo adesso a quattro pulcini. Campato pericolo, nel senso che questi quattro ce la faranno? Dovrebbero essere abbastanza al sicuro, nel senso che sono grandi e per cui a questo punto non dovrebbero avere problemi. Ecco, ma io vedo solamente una cicogna, non so se un cicogno o una cicogna, ma perché uno solo? Dunque, il cicogno e la cicogna sono praticamente uguali, per cui non siamo in grado di capire se si tratta di un maschio o di una femmina. Una delle due cicogne, quindi uno dei due genitori, tiene la guardia, sorveglia i pulcini, mentre l'altro è a caccia di prede. Tra poco tornerà l'altro e si daranno il cambio e sarà la volta di questa cicogna partire e andare alla ricerca di cibo per i propri pulcini. E allora, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento del 9 giugno, giornata della cicogna, l'appuntamento è proprio qui. Ma questa, dicevo, è una discarica? Eh sì, giustamente Bruno è proprio una discarica. Non si direbbe perché, come vedi, grazie agli operatori che collaborano qui con la cooperativa Muratori, che è il titolare dell'impianto, una volta che viene stoccata e ricoperta, sembra una grande montagna, ma non si sentono né cattivi odori né brutte cose da vedere. Senti, come si svolge questa giornata del 9 giugno? Allora, abbiamo dei punti di ritrovo, il centro commerciale della coppia di Massa e Cozzile e su prenotazione abbiamo anche un servizio navette dalla stazione di Montecatini Terme. Dopodiché ci sono le navette che ci portano qua giù perché non c'è un grande parcheggio, quindi bisogna un pochino adattarsi. Qua giù abbiamo un punto di ristoro, poi abbiamo animazione per i bambini, animazione anche in galleria alla Coppia e dopodiché abbiamo i binocoli per poter vedere in tempo reale. Questa è la quinta edizione della giornata della Cecogna e la sezione soci ha sposato da subito questo progetto. Sì, è stato un connubio che è piaciuto subito e siamo partiti con Enrico e siamo nati assieme. E ti è piaciuta la copertina dell'informatore di questo mese? Sì, sinceramente mi è piaciuta molto e ringrazio tutti. Dentro c'è l'articolo sulla Cecogna, come puoi vedere, e abbiamo anche un librettino, una pubblicazione sempre fatta da noi che verrà distribuita nelle sezioni soci, ora prossimo a venire, proprio sulla storia delle Cecogna. Ma quanti nidi come questo ci sono in Toscana? In questo momento ci sono sette nidi in tutto, fra Cascina, Fucecchia, Monsummano, fino alla piana di Prato addirittura, Quarrata e Prato. Questi nidi sono tutti recenti, cioè si sono installate le Cecogna dal 2005 ad oggi. Nei cinque secoli precedenti in Toscana non c'era nessun nido di Cecogna. Poi ci sono stati dei progetti di allevamento e reintroduzione in natura che hanno portato a questi brillanti risultati, per cui abbiamo di nuovo questa bellissima presenza anche in Toscana. Beh, allora, tra quanto i piccoli saranno pronti per ripartire? Dunque, i piccoli saranno pronti più o meno alla fine di giugno, e poi staranno qui in zona ancora per un po'. Sicuramente entro l'uglio e agosto questi giovani, a quel punto saranno giovani cicogne, partiranno per la migrazione e raggiungeranno i quartieri di svernamento africani che addirittura sono a sud del Sahara. Beh, allora, per toccare con mano c'è questa bella occasione, domenica 9 giugno, ma anche per saperne di più, vi ricordiamo ancora una volta il bell'articolo di Sara Barbanera sull'informatore di questo mese. È davvero tutto per questa settimana, l'appuntamento è tra sette giorni. Ciao a tutti.